Il mio personaggio preferito di Guardiani della Galassia Vol. 2 Rage, qual è il mio personaggio preferito? Beh, sicuramente Star-Lord Indubbiamente Baby Groot Rocket, perché è un casinista, è un rocket Star-Lord, perché è un leader e è un deficiente Come me Gamora Sicuramente Drax Baby Groot Sicuramente l'arrabbiatissimo Rocket Sai, dicevano che siete degli stranzetti presuntuosi Ma non è affatto vero Se sono più Walkman o smartphone? Se penso a Walkman penso ai ricordi di quando ero teenager Che facevo un po' la figa, non perché ho il Walkman Però credo ad oggi smartphone Il fascino del Walkman e della vecchia cassetta Del lato A, del lato B, la compilation Insomma, è ancora intatto Quindi vivo nel presente ma mi piace ancora ricordare il passato Il verso di Baby Groot I am Groot I am Groot I am Groot C'era un giapponese che abbiamo incontrato che lo faceva benissimo Tipo, bufò Così Ma dal film mi aspetto grande divertimento come il numero uno Un po' di emozione, un po' di sentimento Sono molto curioso di vedere come crescerà la pianta Che abbiamo lasciato appena nata alla fine del primo film E sono anche molto contento di rivedere i denti aguzzi di Rocket Mi raccomando, ricordatevi 25 aprile Guardiani della Cavassia volume 2 al cinema No, siamo una famiglia Tranne lei, forse Dopo tutti questi anni, ti ho trovato E tu che diavolo sei? Sono tuo padre, Peter Grazie a tutti